I carabinieri sono tornati a bussare alle porte dell'ospedale di Cosenza. Questa volta i militari dell'arma si sono concentrati sui locali della farmacia ubicati all'interno di uno dei padiglioni dell'annunziata. Gli uomini della compagnia di Cosenza e gli ordini del tenente Buccalo hanno compiuto un accesso ispettivo verificando le modalità di conservazione dei medicinali, la salubrità dei luoghi e il rispetto delle norme vigenti. Le attività di controllo si sono svolte con il contributo dei carabinieri del NAS e del personale dell'ospedale di Catanzaro, il servizio di prevenzione di igiene e sicurezza per i lavoratori. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di controlli in corso già dallo scorso autunno nel nostro comio Bruzio, coordinati e diretti dal procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo e dall'Aggiunto Marisa Manzini, finalizzati a garantire il rispetto delle normative e l'erogazione di servizi puntuali ed efficienti all'utenza. Nel mese di novembre gli accertamenti effettuati dai carabinieri avevano prodotto il sequestro di sette sale del blocco operatorio, con facoltà d'uso condizionato a causa di una serie di carenze igienico-sanitarie emerse durante i controlli. Salvatore Bruno per la Cineus 24.